Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Giordano Fioretti, Catanzaro riesce a imporre il proprio gioco anche in un campo difficile come la Via del Mare del Recce, il risultato 3 punti fondamentali per il proseguo del campionato. Beh, credo sia stata una partita importante e poi vincere qui è una cosa doppia, insomma ti dà soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene e credo che sono 3 punti fondamentali per il proseguimento del campionato. Con il tuo gol hai regalato 3 punti importanti per te, forse hai tirato un po' sul fiato dopo alcune giornate difficili dove non l'hai messa dentro. Beh, è normale, quando erano 3 gare che non facevo gol, sembra che erano 3 mesi, guarda, però insomma è passata, mi sono sboccato, ho la prima rete stagione in campionato, sono contento, speriamo di non fermarmi qui come io, come tutta la squadra, continuare a fare queste prestazioni importanti perché credo che se ci aiutiamo l'uno con l'altro ci possiamo togliere delle grosse soddisfazioni. Un gol che per Giordano Fioretti è una dedica speciale? Beh sì, lo dedico a tutta la squadra, a tutta la società del Camenzaro e a tutti i tifosi perché anche oggi erano numerosi e troppo importante questo gol è stato per noi, quindi lo dedico a tutti loro.